Caro professore, lei è stato e continua ad essere protagonista non solo del dibattito scientifico internazionale ma anche di quello politico italiano. La sua è una voce autorevole, appassionata e soprattutto indipendente che ha rafforzato e nutrito l'opinione pubblica. Una vera democrazia, e ce lo insegnano i suoi scritti, oltre che di una diffusa pluralità di strumenti di libera informazione e comunicazione ha bisogno di luoghi che consentano i cittadini di conoscere, informarsi, acquisire e potenziare la propria capacità cognitiva per poter vivere consapevolmente il presente. Anche perché, è stato lei professore ad averlo scritto, a ogni incremento di demo potere deve corrispondere un aumento di demo sapere. Altrimenti la democrazia diventa il governo dell'incompetenza ed è così destinata a morire.